Per un'installazione a regola d'arte di una zanzariera verticale a molla o a catena, dobbiamo sempre controllare che cassonette e guide siano perpendicolari tra loro in un angolo a 90 gradi. Questa operazione si effettua semplicemente facendo appoggiare le guide al davanzale e il cassonetto alle relative guide. Non andiamo ad installare la zanzariera con il cassonetto appoggiato sull'architrave, potremo avere un fuorisquadra che potrebbe compromettere l'estetica del prodotto o addirittura provocare un mal funzionamento della zanzariera stessa. L'eventuale differenza in altezza andiamo a gestirla nella parte superiore del cassonetto con dello spazzolino biadesivato o, ancora meglio, con del nastro autoespandente. In fase di installazione stiamo attenti che le spallette del foro siano parallele. In caso di non parallelismo tra le spallette del foro cerchiamo di andare a spessorare dietro le guide per far sì che le guide siano perfettamente parallele tra di loro. Grazie a tutti!